Sesta edizione della colletta del libro iniziativa promossa dall'Associazione Stella del Mare in collaborazione con la Casa Circondariale di Pescara e il patrocinio del Comune della Provincia la collaborazione con l'Associazione Percorsi. Lo scopo è quello di invitare le persone ad acquistare dei libri da regalare ai detenuti del carcere ai loro figli o ai minori in case famiglia di Pescara e dintorni. Abbiamo aggiunto su richiesta proprio dei detenuti che i libri chiesti saranno anche per i figli dei detenuti che sappiamo che i loro figli possono andarle a trovare in carcere e loro hanno chiesto proprio questa disponibilità che insomma incontrare i figli e donare un libro è sicuramente anche per loro una bella cosa. Nelle passate edizioni sono stati raccolti e donati più di mille libri e anche quest'anno tra i volontari che si alternano davanti alle librerie ci saranno otto detenuti in permesso speciale che chiederanno di acquistare dei libri. Le librerie coinvolte sono la Mondadori in via Milano, l'edizione Ipaolina in corso Vittorio Emanuele, la Feltrinelli ancora in via Milano, Ruscone Libreria, la stazione On The Road a Montesilvano, Giunti al Punto, il centro commerciale Arca di Spoltore e alla Villa Jotlet di Città Sant'Angelo oltre alla Mondadori in piazza Sirena a Francavilla. Quest'anno la nuova direttrice ci dà la possibilità per ogni sezione di fare una piccola biblioteca e con tutto il rischio anche che questi libri possano essere non trattati adeguatamente ma noi siamo disposti anche a questo perché vediamo che la popolazione è molto sensibile anche a donare libri in buono stato usati, però non oggi. Oggi noi siamo davanti alle librerie per sollecitare alle persone a donare libri nuovi ma da lunedì in poi siamo anche disponibili a raccogliere libri usati in buono stato da donare sempre al carcere.